Il maltempo ha portato forti disagi lungo l'autostrada del sole con ripercussioni anche sul tratto aretino. Questa mattina infatti una frana in una montagna nel comune di Incisa ha portato detriti sulla carreggiata dell'autostrada del sole. La caduta di detriti si è verificata sulla carreggiata nord all'imbocco della galleria Bruscheto poco dopo l'uscita l'Incisa Reggello al chilometro 119. Si sono così registrati sino a 15 chilometri di coda tra Vadlarno e Firenze Sud. Disagi non solo lungo l'autostrada ma anche sulla I-45. L'ANAS infatti ha disposto la chiusura del tratto fra Verghereto e Bagni di Romagna in entrambe le direzioni per cui i veicoli sono stati costretti ad uscire e percorrere la viabilità alternativa sull'ex Tiberina Trebis. Disagi anche in città per il maltempo. Nella strada di domenica infatti è stato chiuso il viale Santa Margherita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i vigili urbani che hanno sbarrato l'accesso alla strada. Allagamenti, scantinati e garage invece si sono registrati nella zona di Tregozzano. Insomma dopo Buri anche con sé aveva portato la neve e il gelo il maltempo non si arresta. Adesso a preoccupare è la pioggia incessante che continua a riversarsi anche sul territorio aretino.